L'impatto che avrà l'innovazione Deep Tech nelle nostre vite sarà necessariamente di tipo disruptive, davvero estremamente penetrante. Questo in quanto ci ritroveremo ad avere a che fare con tecnologie che oggi non riusciamo neanche a immaginare. Questo avrà un impatto enorme, immaginiamoci, nel campo dell'alimentazione, come ci nutrieremo, oppure di come viaggeremo, di come lavoreremo. Alla base di tutto questo ci sono i ricercatori e le imprese. Le imprese dovranno necessariamente cavalcare questa nuova ondata di rivoluzione tecnologica, altrimenti correranno il rischio di finire fuori mercato. L'abbiamo già visto in passato e sta succedendo ancora adesso. In conclusione, quindi, è inevitabile occuparsi di Deep Tech, sia a livello personale che come professionisti e ancora di più come imprenditori che devono mantenere un vantaggio competitivo per permettere alla propria impresa di sopravvivere attraverso questa rivoluzione.